ragazzi vlog oggi vlog a cazzo ho appena scoperto che questa è incinta incredibile lei è incinta ho appena scoperto che questa è incinta incredibile incredibile andiamo leonabo 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 praticamente rega per lo scherzo lui vuole provare a farmi notare però qua oh dio cristo mettersi in un angolo porco cane per centrare quel posto per dopo percchio che raga c'è entrata cosa cazzo andiamo no noi non raga non volevo poterire mai su youtube a me è compatibile vlog la cazzo la pioggia stai vloggando saluta youtube saluta tutto youtube sono male festivo sto mettendo video su youtube adesso veramente non svelare la mia digita sono male è fastidio adesso vado a usare la microfono vai è pure mio cucino tanto ragazzi sono 100 miliardi di iscritti non è vero no non è vero non è vero non è vero non è vero Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.